Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale partirà ovviamente dalla fase decisiva del tentativo dell'esplorazione del Presidente della Camera Roberto Fico. Che cosa ha fatto finora? Ovviamente ha incontrato, come sappiamo, tutte le delegazioni e poi oggi ha messo insieme tutte le rappresentanze delle varie forze dell'ex maggioranza per estendere tutto ciò che è possibile di un potenziale programma del nuovo governo, senza che si sia ufficialmente, ma neanche sostanzialmente per quello che ne sappiamo parlato, a questo tavolo, qui erano presenti 32 persone, della composizione del governo, né tantomeno di chi lo dovrebbe guidare. Tutto resta avvolto ovviamente attorno a questo quesito che è dirimente per le forze politiche. Pensate che il 5 Stelle, ma anche il Partito Democratico, ma anche i Liberi Uguali, non si smuovono dalla indicazione precisa e senza alternative di Conte, ancora di Giuseppe Conte. Mentre, come si sa, Italia Viva non parla proprio del futuro Premier, ma tutti sanno che al momento opportuno poi non ci sarà convergenza facile. Così che si pensa, anche perché dalle notizie sul programma emergono forti divaricazioni sulla questione MES, sulla questione reddito di cittadinanza, sul ruolo del supercommissario Arcuri. E qualcuno pensa che ci potrebbe essere invece di un lieto fine una conclusione di rottura e che potrebbe portare a un governo istituzionale. Il nome che si fa sin dall'inizio, quello della Presidente Emerita della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ma si continua a ascoltare, si continua a vedere distintamente, nitidamente, l'ombra anche di Mario Draghi, anche se ufficialmente nessuno dice di avergli parlato. Vedremo anche che cosa si muove quindi dietro le quinte. Cercheremo di capire. Ma la questione è molto chiara. Bisogna assolutamente che ci sia una scossa, che ci sia un governo, anche perché gli ultimi dati sull'occupazione dimostrano come i senza lavoro siano cresciuti nell'ultima fase del 2020 e come soprattutto ad aver perso il posto sono stati i giovani e le donne. Quindi in qualche modo una situazione che si è fatta ancora più squilibrata e preoccupante. Vedremo il grande fatto della politica internazionale, il colpo di Stato che ci riporta già la locuzione al Novecento, il colpo di Stato dei militari in Myanmar, la ex Birmania, l'arresto, gli arresti domiciliari, ancora una volta per la donna che ha i domiciliari, ha vissuto tanti anni fino a diventare premio Nobel per la pace, a Aung San Suu Kyi, che poi adesso guida il paese, o perlomeno lo guidava fino a questa notte. La protesta di tutto il mondo, ma i militari sono assolutamente intenzionati a mantenere il potere almeno per un anno fino a nuove libere elezioni, dicono loro. Vedremo però anche che Zaki resta altri 45 giorni in carcere preventivo in Egitto. Vedremo i dati di oggi che confermano la discesa dei nuovi positivi e delle ospedalizzazioni e anche del numero delle vittime, con un indice di positività subito sopra il 5%. Ma parleremo anche di Arcuri, del supercommissario, perché a lui, ai suoi acquisti, alle sue mosse, alle sue decisioni, ai suoi errori, è dedicato il Data Room di Milena Gabanelli. E oggi è lunedì, è anche il giorno dei sondaggi. A tra poco. Ancora distanti le forze di maggioranza, in riunione da questa mattina alle 9 per un serrato confronto sul programma di governo. Non sono mancate le tensioni, il tema divisivo resta sempre il mess sanitario con i 5 stelle che hanno respinto anche la proposta di Italia Viva di chiederne almeno una parte. Tutto è bloccato apparentemente, al tavolo di lavoro non si fanno nomi. E domani il presidente della Camera FICO dovrà tornare da Mattarella per riferire gli esiti dell'esplorazione. Resta ovviamente possibile un terzo mandato a Conte, che rimane un indiscusso punto di equilibrio per tre delle forze, 5 stelle, PD e LEU, oltre ovviamente al neonato gruppo europeista. Ma c'è anche un'altra ipotesi, quella del governo istituzionale, con i nomi di Marta Cartabia e anche di Mario Draghi. Con le Conte terre, il segretario del PD Zingretti blinda il ministro dell'economia. Gualtieri non si tocca, dice, confortato anche dall'endorsement del presidente della Confindustria. Ma Renzi non scopre tutte le sue carte, auspica un governo entro fine settimana. Salvini attacca. Approviamo i provvedimenti più urgenti e andiamo al voto. Non basta il blocco dei licenziamenti per mitigare gli effetti del Covid sull'occupazione. Dai dati Istat emerge che a dicembre sono state perse 101.000 posti di lavoro rispetto allo stesso mese di un anno prima. Ne sono stati bruciati ben 444.000. L'1,9%. Il tasso di disoccupazione sale al 9%. Il prezzo più alto però lo pagano i giovani e le donne. 99.000 posti in meno contro i 2.000 dei uomini. Stato di emergenza in Myanmar dopo il colpo di stato militare. Unione Europea e Stati Uniti hanno chiesto il rilascio immediato del premio Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari da parte dei militari golpisti con cui guidava il governo dopo aver vinto largamente le elezioni lo scorso novembre. Dal carcere la San Suu Kyi ha lanciato un appello al popolo a scendere in piazza per difendere la democrazia. Nelle ultime 24 ore sono di poco sotto quota 8.000. 7.925 nuovi casi di coronavirus. È il dato più basso dal 14 ottobre. In aumento i decessi 329. Superata la soglia dei 2 milioni di italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Oggi primo giorno in fascia gialla per quasi tutte le regioni. Aperti bar e ristoranti fino alle 18.00. Riaprono i musei con ingressi contingentati. E mentre oggi è iniziata la prenotazione con molti problemi nel Lazio e la Lombardia ha scelto Bertolaso per il suo piano vaccini, si parla nel data room di Milena Gavanelli di Domenico Arcuri, da dieci mesi commissario straordinario dell'emergenza per la pandemia. Un ruolo chiave che ha centrato a sé gli acquisti di prodotti, attrezzature necessarie agli ospedali di tutta Italia. Ma non tutto ha funzionato dai risparmi per lo Stato, la sovrapposizione con le regioni nelle trattative e con i fornitori. Appunto, sentiremo cosa ha trovato. Milena Gavanelli. Buonasera, le 24 ore finali dell'esplorazione del Presidente della Camera Roberto Fico ci portano vicini alla possibile conclusione della crisi di governo, ma non così vicini da non dissipare ombre, sospetti e ostilità e dualismi permanenti. In realtà ancora non è chiaro quale potrebbe essere il programma sui suoi temi salienti e soprattutto non è chiaro chi quel governo dovrebbe guidare e chi ne dovrebbe personalmente far parte, a livello quindi dei dicasteri, dei ministeri più importanti. È una partita a scacchi tra PDV, 5 Stelle e l'EU da un lato e Italia Viva dall'altro. Vediamo cosa è successo oggi. Meno di 24 ore alla scadenza del mandato esplorativo affidato dal Capo dello Stato al Presidente della Camera Roberto Fico. E le oltre nove ore di confronto al tavolo del programma, nella sala della lupa di Montecitorio, non aiutano a dissipare l'incertezza sul futuro della crisi. Si sono ritrovati in una quindicina da stamattina alle nove e mezza i capigruppo dei partiti di maggioranza, PD, 5 Stelle, ELEU, Italia Viva, ma anche Centro Democratica, Autonomie e neonati europeisti del Senato. Sul tavolo i nodi che da mesi sono irrisolti tra i giallorossi del Conte Bis e che hanno portato allo strappo di Italia Viva dopo le insoddisfazioni registrate anche sul fronte DEM. Dal recovery alla giustizia, ancora se ne deve parlare, al MES, confermato al no dei 5 Stelle, anche all'ipotesi avanzata da Italia Viva di prendere solo una quota di 8 miliardi. E poi le politiche attive del lavoro, con la revisione del reddito di cittadinanza, le riforme istituzionali, sia la legge elettorale proporzionale, se con preferenze di conerenziani. La realtà è che sembra difficile trovare il bandolo delle fermatasse in poche ore, soprattutto se la pretesa è di prescindere da squadra di governo e premiership, nodi di cui si discute evidentemente altrove a livello di leader. Nei ci sarà un documento scritto, come Italia Viva vorrebbe, che potrà essere steso invece solo dal Presidente del Consiglio incaricato. Si tratta insomma al tavolo del programma di fissare i confini e verificare le compatibilità sui temi. Discussioni infinite, dicono i partecipanti, ma non si litiga neppure, visto che si tratta di vedere soltanto se ci sono le condizioni preliminari per ricucire l'alleanza. Al Quirinale ci si prepara domani pomeriggio il ritorno di Roberto Fico per riferire al Presidente Sergio Mattarella. Nessun tempo supplementare. Se le cose andranno bene, il testimone passerà al Presidente incaricato, Giuseppe Conte, salvo nuovi veti. Altrimenti un giorno in più non servirà a risolvere la situazione e il Capo dello Stato dovrà passare a un piano B. Da domani pomeriggio alle 17 riprendiamo la nostra non-stop per raccontare la fase decisiva di questa ricognizione di Fico e della intera crisi di governo. È chiaro che il fuoco cova ancora e come sotto la cenere, lo si capisce, auscultando le prese di posizioni e le voci di dentro da partiti e movimenti. A sentire Renzi tutto finirà entro questa settimana. Governo pronto e impacchettato, composto, scrive sulla sua pagina sul web, da persone capaci e meritevoli perché, aggiunge, solo così si salva il Paese. Il leader di Italia Viva mette nero su bianco la riflessione di prima mattina con il tavolo del confronto convocato dal Presidente Fico appena aperto. E allora non si capisce se è un invito a fare presto o invece la dimostrazione che la soluzione della crisi passa da un'altra parte. Anche perché lo stesso Renzi dice e ripete che col Presidente della Camera di tutto si può parlare, meno che di nomi. Di quelli dovrà occuparsi qualcun altro in altra sede, evidentemente. Alla ricerca di un accordo che allo stato attuale sembra richiedere tempo, forse più di una settimana. Perché anche oggi il segretario del PD Zingaretti conferma che il nome e quello di Conte non si tocca e anzi, forse confortato dalle parole del numero uno di Confindustria Bonomi, inserisce tra gli intoccabili del governo non uscente anche il ministro dell'economia Gualtieri, che tanti invece consideravano tra i sacrificabili. Per lasciare spazio ha un peso massimo, ma non vedo trappole di Renzi, aggiunge Zingaretti. Io sono fiducioso che la disponibilità data da tutti coloro che stanno concorrendo a questo tentativo sia una volontà sincera. Zingaretti ci crede, Renzi sostiene di voler chiudere velocemente, i Cinque Stelle vogliono vedere nomi e carte. Troppo rischioso per il Movimento ripartire senza prima chiarire. Io lo capisco, Di Battista fa bene a ricordare al mondo chi è Renzi, così se annuncia qualcosa e se lo rimangia dopo cinque minuti i suoi pochi elettori capiranno. Si sbilancia l'ex deputata, ora alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, che punta sul nuovo accordo. Parigi val bene una messa, risponde a chi domanda se il Movimento è pronto a turarsi il naso e rimettersi con Italia Viva. Tanti in realtà tra i Cinque Stelle ci stanno pensando, in particolare un gruppetto di senatori che si ingrossa con il passare delle ore. Conte non si tocca, prova a convincerli il sottosegretario Castaldi puntando tutto sul Premier uscente come punto di equilibrio. Gioco di posizionamento inaccettabile attacca Matteo Salvini che propone di chiudere subito con i provvedimenti urgenti e poi andare al voto. Basta, l'Italia ha bisogno di scelte precise, concrete, le idee ci sono, portiamo subito in aula i decreti per il taglio delle tasse, per l'assunzione di medici e infermieri, per il blocco delle cartelle esattoriali e poi diamo la parola, la fiducia e il voto agli italiani. Voto subito, alza la voce anche Meloni da Fratelli d'Italia che sembra voler sovrastare le dichiarazioni che invece continuano ad arrivare da Forza Italia. Dopo Carfagna e Berlusconi, anche oggi diversi esponenti del partito tornano alla carica con il governo dei migliori. Siamo pronti a sentire cosa dice Mattarella, conferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tagliani. E così quindi, sullo sfondo, le sagome ben chiare, ben nitide e visibili di Giuseppe Conte, ma anche di Marta Cartabia e perché no anche di Mario Draghi. Cosa succede? Cosa si dice? Lo chiediamo in diretta da Montecitorio a Alessandra Sardoni. Sì, buonasera. Allora, innanzitutto, fino a pochissimi minuti fa, proprio fino a questo momento abbiamo appena ricevuto una segnalazione del contrario, si stavano preparando tutti i partecipanti al tavolo della verifica del presidente incaricato dell'esplorazione Roberto Fico, ovvero i capigruppo delle forze della maggioranza, compreso il nuovo gruppo mai centrodemocratico europeisti. Tutti i capigruppo si preparavano una lunga nottata qui al tavolo dei contenuti. In realtà, proprio poco fa abbiamo saputo che invece alle 21 sospenderanno, che si rivedranno domani mattina alle 9, che comunque per ora il presidente della Camera, ma premier incaricato, Roberto Fico, conta di finire tutto per le 13, c'è questa deadline e poi di andare al Quirinale. Naturalmente poi tutto è possibile, anche chiedere un tempo supplementare che però, appunto, si diceva che nei servizi non renderebbe felicissimo il Colle, ma insomma che eventualmente se si trattasse di pochi ritocchi e non della sostanza all'accordo, potrebbe anche concedere. Il punto è però che questo tavolo, che viene descritto fuori da qui, diciamo dai big, al di là dei capigruppo, naturalmente hanno il loro rilievo, ma dai leader politici agli incaricati, alla diplomazia parallela, che sta trattando invece fuori da qui sui nomi, perché è così, i segnali che arrivano è che in realtà le cose non vadano così male qui al tavolo, ma sono, diciamo, i segnali che arrivano per esempio da una parte del Partito Democratico, perché nella sostanza al tavolo si è visto un Renzi che rilanciava e alzava la posta, e alzava la posta su contenuti non facilmente digeribili dagli altri, perché soprattutto da Conte la bicamerale delle riforme, una bicamerale, l'allusione a un'altra modalità di bicamerale per il recovery fund, per la gestione del recovery fund, un'altra modalità ancora di bicamerale, ancora sulla giustizia, proprio poco fa rilanciata da Teresa Bellanova, insomma, un metodo e anche dei contenuti che sono quelli più divisivi, quindi l'idea che si è fatta, invece si sono fatte altre voci della maggioranza, è che le cose, anche in Leo, è che in realtà le cose non stiano andando benissimo e che potrebbe Renzi usare i contenuti poi per far saltare, oppure invece per trattare, sapendo che, come si diceva, anche questo, questo si diceva nel servizio di Paolo Celata, non, Gualtieri, sembra un intoccabile a questo punto, blindato dal PD, blindato anche dal Quirinale, così Speranza, però per tutte le altre caselle serve, come dire, alzare la posta anche per ottenere, per esempio, una, come dire, un assottigliamento dei poteri, molti che sono nelle mani del commissario Arcuri, che è l'altra figura nel mirino dei Renziani. Quindi, diciamo, qui si tratta sui contenuti, ma questo tavolo resta aperto per, in un certo senso, coprire le trattative che stanno facendo i leader separatamente le diplomazie sulle caselle da occupare. Qualcuno ci diceva, anche un ministro del Partito Democratico, sarebbe anche più elegante, se si rompe, rompere sui contenuti, almeno così in apparenza, piuttosto che rompere sui nomi. Questo, per il momento, è la situazione. Benissimo, Alessandra. Diciamo esploratore incaricato, invece di premio incaricato, per Fico, forse più calzante rispetto alla consegna del Quirinale. E non per correggere, perché poi, giustamente, dalla Presidenza della Repubblica ci possono far osservare questo. E, allora, se sei d'accordo, ci sentiamo alla fine del telegiornale per aggiornamenti. Cari telespettatori, è chiaro che noi seguiremo, ve l'ho già detto, tutta questa fase è cruciale, ma è chiaro che la partita, in parte, si gioca in chiaro, come si dice nel gergo delle trasmissioni sportive, soprattutto è un po' ecriptata, anche agli occhi e alle orecchie dei giornalisti. Però le voci di dentro parlano di una situazione ancora del tutto incerta. Il fatto è che bisogna far presto, anche perché i dati che arrivano dalla società, i dati che arrivano dal sistema paese, sono sempre più inquietanti. E poi c'è il mondo reale, fatto di famiglie, redditi, lavoro e più delle parole contano i dati. Quelli che arrivano oggi da quel mondo mostrano che bloccare i licenziamenti per arginare gli effetti del Covid non è bastato a salvaguardare i posti di lavoro. A dicembre ne sono andati persi 101 mila. Non è bastata neanche la lieve risalita che avevamo intravisto ad agosto, una boccata di ossigeno prima del nuovo lockdown. L'anno si è chiuso con un calo dell'occupazione, ora al 58%, e il tasso di disoccupazione in aumento dello 0,2% al 9%. Significa che aumenterà anche il numero di persone che avranno diritto ai sussidi, naspi, reddito di cittadinanza. A giugno erano già 2,6 milioni e saranno soldi. Ma il quadro rende l'Italia particolarmente vulnerabile perché ad aumentare a dicembre è stata soprattutto la disoccupazione giovanile. Sfiora il 30%, ci porta agli ultimi posti nell'area euro e ci mostra anche, fra le altre cose, che il progetto dell'Unione Europea garanzia giovani, se non è proprio un flop, ha comunque un bilancio negativo. Per non parlare degli inattivi, ormai al 36%, un totale di oltre 13 milioni di persone che il lavoro non lo cercano più, convinti di non trovarlo. La fascia 25-49 anni è quindi praticamente ferma, ma oltre a loro in questa crisi chi perde di più? Le donne. Il dato è impressionante. In 99.000 hanno perso il lavoro a fronte di 2.000 uomini e poi, come prevedibile, i lavoratori autonomi. Meno 79.000 posti, sempre a dicembre, mentre per i dipendenti meno 23.000. Tra questi, a pagare il conto sono solo i lavoratori a termine e anche qui ci si interroga se il decreto dignità che ha ridotto la flessibilità per i datori di lavoro sui contratti a tempo determinato abbia portato benefici o meno. Il sospetto è che molti lavori a termine siano andati persi a causa della maggior rigidità dei contratti brevi. Qualcuno però si è salvato. Sono gli ultra 55 anni, una fascia che è riuscita a conservare il proprio posto di lavoro anche in questo periodo per effetto delle normative pensionistiche che ritardano l'uscita da lavoro. I sindacati parlano già di una vera e propria bomba sociale. Il rinnovo del blocco dei licenziamenti non solo è necessario, ma deve essere non selettivo, come chiede invece Confindustria che lo considera un freno per il rilancio di tante imprese e lo vuole solo per i settori in sofferenza. È lunedì, è giorno dei nostri sondaggi. Come andrebbe se si votasse oggi? Vediamo come già da un anno praticamente la Lega sarebbe la prima forza. Perde però lo 0,2%, al 23,3%. riguadagna quello 0,2% il Partito Democratico al 19,8%. Come vedete il Movimento 5 Stelle risupera Fratelli d'Italia a 16,3% più 0,6%. Fratelli d'Italia 15,9% meno 0,4%. Forza Italia guadagna, no perde scusate lo 0,5% al 5,8%. Sinistra italiana più 0,2% al 4%, poi azione meno 0,4% 3,6%. Italia viva più 0,2% al 3,2%. Verdi 2,1% meno 0,1% più Europa 2,1% più 0,2%. E come vedete questa è la situazione con un 38% non si esprime, 3% in meno rispetto a una settimana fa. Vuol dire che c'è una maggiore polarizzazione di cui come avete visto in questa settimana hanno profittato, fruito positivamente le forze di governo, o perlomeno della maggioranza del governo che è andato in crisi. Ora prima di andare alla pagina sulla lotta contro la pandemia, le notizie internazionali in breve. Perché ce n'è una importante? Perché è quella di un colpo di Stato militare, di quelli che eravamo abituati a conoscere nella seconda metà soprattutto del Novecento. Ma da tempo non se ne viveva uno così brutale e drammatico in un paese che già conosce la sferza dei militari, la ex Birmania, il Myanmar. Meno di 24 ore dopo il colpo di Stato messo in atto dai militari nel Myanmar, la diplomazia internazionale si attiva per ristabilire la democrazia violata. Il neopresidente degli Stati Uniti Biden chiede ai militari di rinunciare immediatamente al potere e minaccia nuove pesanti sanzioni. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite annuncia per domani una riunione d'emergenza. In seguita alla condanna del golpe e dell'arresto illegale della leader San Suu Kyi, Pechino richiede che sia salvaguardata la stabilità politica e sociale dell'ex Birmania, stato in cui ha enormi interessi geopolitici. Nel frattempo i militari assicurano, alla fine dello stato di emergenza di un anno, saranno organizzate nuove elezioni. Ma torniamo ai fatti. A meno di dieci anni dalla caduta del regime, i militari hanno ripreso il potere con un golpe arrestando colei che aveva stravinto le elezioni legislative di novembre, la 75enne premia Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi, alcuni esponenti del suo partito e il presidente Vinh Min per presunti brogli sulle liste elettorali. Secondo l'articolo 417 della Costituzione, scritta e imposta proprio dagli uomini in divisa nel 2008, l'esercito può intervenire qualora si verifichino tentativi di prendere il controllo della sovranità illegalmente e con forza che mettano in pericolo la solidarietà nazionale. Proprio nel giorno in cui nella capitale Neipidò il Parlamento si sarebbe dovuto insediare e la nuova legislatura avrebbe potuto essere inaugurata, con un annuncio televisivo tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Mia Unglaing, da dieci anni a capo dell'esercito e prossimo alla pensione. Immediato il blocco delle linee telefoniche ed internet, chiuso le banche e gli sportelli Bancomat, sospesi i voli interni e bloccata l'operatività dell'aeroporto di Rangoon, il principale scalo del paese. Rimasta a lungo in carcere Aung San Suu Kyi, pur avendo subito pesanti critiche a livello internazionale per non essersi opposta alle persecuzioni della minoranza musulmana rohingya del nord del paese, ora rivolge un unico appello al popolo non piegatevi. C'è un'altra notizia che riguarda una vicenda che l'Italia segue, tenta di seguire con il suo peso ma evidentemente non è adeguato, almeno fino alla vicenda di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che un anno fa al rientro in patria fu arrestato perché militante dei diritti civili, in realtà ufficialmente di propaganda sovversiva, di rinvio in rinvio, di prolungamento in prolungamento il suo stato di detenzione preventiva dura da ormai più di un anno e oggi c'era una nuova udienza, c'era un rappresentante dell'ambasciata italiana al Cairo, ma questo non è servito a nulla, neanche questa volta, perché il fermo appunto di Patrick Zaki è stato prolungato di un altro mese e mezzo. Non è possibile, al di là del fatto che la prigione di Tora, in una cella della quale si trova Zaki, è malfamata, ma anche se non fosse così non è tollerabile questa situazione nel momento in cui l'Italia ha messo il suo peso diplomatico nella vicenda. Non ci si può far trattare a pesci in faccia, né processo, né libertà provvisoria, né scarcerazione, non esiste assolutamente. Eppure è quello che continua ad accadere. Andiamo allora ai dati sulla pandemia, perché? Perché oggi è stata una giornata che dal punto di vista dei numeri è stata più confortante, anche se, lo dico subito, nel Lazio era la giornata in cui iniziavano le prenotazioni per i vaccini e subito i terminali sono andati in tilt e per tutta la giornata praticamente è stato molto difficile riuscire a prenotarsi. Mentre dalla Lombardia arriva la notizia che sarà Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile, il boss, chiamiamolo così, dei vaccini, colui che sovraintenderà alla campagna di vaccinazione. Non raggiunge quota 8.000 il numero dei nuovi casi positivi del bollettino di oggi. In 24 ore scendono, e di molto, di circa 3.000 unità, attestandosi a 7.925 casi. Era dal 14 ottobre scorso, agli inizi della seconda ondata, che non si registrava un dato così basso. Allora erano 7.332, oggi sono circa 700 in più, a fronte di oltre 142.000 a tamponi tra molecolari ed antigenici. Cresce, seppur di poco, il tasso di positività, così come aumentano i decessi. Sono 329 le vittime riconducibili al Covid, mentre torna a salire, sia pur di poco, la pressione sul sistema ospedaliero, che porta di nuovo il segno più. Solo due regioni superano i mille contagi, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, appena sotto la soglia alla Campania. Una nuova circolare del Ministero della Salute sulla diffusione delle varianti Covid, recepisce le linee guida per la ricerca dei contatti sospetti o confermati. Vanno identificati tempestivamente con due test molecolari, uno all'inizio, l'altro a fine quarantena. L'isolamento deve essere di 14 giorni e non interrotto al decimo, così come indica l'OMS ed il Centro Europeo Prevenzione Malattie. Nel primo giorno dell'Italia per tre quarti gialla hanno riaperto, come previsto, bar, ristoranti, pizzerie e agriturismo, con servizi al tavolo. Riaperti anche i musei, ma solo nei giorni feriali ed ingressi contingentati. Al primo giorno con il pubblico, ecco i musei vaticani. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che non rimanevano chiusi per quasi tre mesi. Ed è stato il primo giorno di scuola dopo mesi di dad per 1.200.000 studenti, con governatori e sindaci alle prese con le situazioni sul territorio. Sul fronte della profilassi, malgrado i ritardi, è stata superata la soglia dei 2 milioni di italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. In attesa di indicazioni unitarie da Invitalia, Alvia, in alcune regioni, anche le prenotazioni per gli anziani over 80. Tra queste Abruzzo e Campania. Difficoltà nel Lazio, dove il sito è andato in tilta per qualche ora. E allora parliamo proprio del commissario, del super commissario all'emergenza Covid. Di Domenico Arcuri si è già detto tanto, tantissimo, ma ora passa sotto la lente del data room di Milena Capanelli. Fino all'emergenza Covid, tutto quello di cui gli ospedali ogni anno hanno bisogno, cioè 28 miliardi di euro per il 30% se lo acquistano direttamente, il 10% Consip, il 60% le centrali d'acquisto regionali. Dal 17 marzo il governo va in deroga. D'ora in poi tutto quello che serve per contenere la pandemia deve essere acquistato da un commissario straordinario. La scelta cade su Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, società pubblica, che si occupa di attrazione degli investimenti. Non ha competenze specifiche, tuttavia decide di non coordinarsi con le centrali d'acquisto delle regioni. Non ce la fa a coprire tutti gli approvvigionamenti, dai guanti, calzari, i camici, le visiere, i monitor, i letti, i reagenti, i respiratori. A più della metà dei materiali devono pensarci le regioni e la presenza di più soggetti che acquistano non coordinati fra loro non facilita le cose. Il 31 agosto le regioni comunicano al commissario di quante attrezzature e ventilatori hanno bisogno per potenziare le terapie intensive e semi-intensive, ma l'elenco dei fornitori a cui le singole aziende sanitarie devono rivolgersi per negoziare viene pubblicato dal commissario il 2 novembre nel pieno della seconda ondata. Al 30 dicembre la spesa totale è stata di 5 miliardi e mezzo così ripartiti, 300 milioni dalla protezione civile, 400 dalla Consip, 2 miliardi dalle regioni e 2 miliardi e 8 dal commissario di cui un miliardo e 8 in mascherine. Le mascherine, dimentichiamoci la prima ondata dove pur di averne una avremmo pagato qualunque prezzo. Dall'estate le cose sono cambiate, il commissario acquista gigantesche quantità, spunterà certamente il miglior prezzo. Parliamo delle FFP2, il presidio numero uno degli ospedali. La quasi totalità si importa dalla Cina. L'importatore con cui il commissario a settembre firma un contratto è olandese, 100 milioni di pezzi per 105 milioni di euro, costo 1,05 cada una. Nello stesso periodo l'azienda ospedaliera della regione Marche acquista lo stesso prodotto certificato da un importatore italiano. La Polo Nord ad Este paga circa 40 centesimi l'uno. Una differenza da 65 milioni di euro. Anche la regione Veneto sta acquistando a meno. Insomma, mettere in piedi una struttura da zero in campo sanitario e in emergenza richiede competenze specifiche che ci sono, ma non la volontà di andarle a pescare. Allora Milena, qui devo dire da questo telegiornale abbiamo già detto più volte che l'accentramento di tante prerogative nelle mani di una sola persona sembra qualcosa che è molto pericoloso nel momento in cui, non perché chissà quale tirannide o cose di questo genere, ma perché è praticamente impossibile poter arrivare a tirare le fila di tutto. Per di più c'è anche di mezzo, come sappiamo, l'ilba di Taranto che viene gestita anch'essa dalla struttura di Invitalia. Ma anche detto questo ci sono molte cose su cui, come hai evidenziato, c'è da ridire. Beh, da ridire intanto quello che io mi sono limitata a rappresentare insieme poi alla collega Ravizza, ha fatto un grande lavoro alle spalle, è l'analisi fatta da un team di professore della Bocconi. Serve il commissario? Sì. Deve coordinare? Sì. Ha competenze specifiche? No. Può coordinarsi con le centrali d'acquisto, la Consip, la protezione civile che hanno competenza in materia sanitaria. Il decreto legge gli dà facoltà. Decide di non farlo. Alla fine di tutta questa questione chi ha comprato cosa? Insomma, è inutile che io ripeta quello che abbiamo appena visto. Era chiarissimo. La questione è che poi, anche di trasparenza, voglio dire, questo contratto, no? L'abbiamo pagato 64 miliardi, quasi 65 milioni in più. Cioè sono tanti soldi in un momento in cui c'è bisogno, sarà tutto debito questo. Quindi è possibile comprare a meno? Vediamo in maniera molto trasparente che sì. Quindi io vado sul sito della protezione civile e trovo dettagliato ogni singolo contratto con tutte le specifiche. Sul sito del commissario straordinario queste informazioni non le trovo. Allora, questo contratto, mi dicono dalla struttura commissariale, è un vecchio contratto di giugno con forniture che arrivano a ottobre, però è stato rifatto su indicazione cinese a settembre. Allora, un contratto di giugno perché servono delle mascherine FP2 e ce n'erano poche, però cominciano arrivare da fine settembre-ottobre. Cioè, adesso, quando tutto questo sarà finito, forse si potranno vedere le carte. Certo, è chiarissimo. È tutto chiarissimo. Certo, è stato un lavoro devastante. Nessuno in passato ha avuto un impegno così terribile e gravoso. Nessuno però ha avuto un tale accentramento di potere anche discrezionale, sia pure fino a prova del contrario. È tutto fatto in perfetta buona fede. Insomma, in emergenza si va in deroga ed è giusto che sia così. Però un'emergenza non dura un anno. L'emergenza non dura un anno, infatti abbiamo detto dimentichiamoci quello che è successo all'inizio perché non avrebbe veramente senso. Adesso le cose stanno anche in un'altra maniera. Poi, è un peccato mortificare delle grandi competenze che dentro alle strutture pubbliche ci sono. Non c'è dubbio. Ne abbiamo detto abbastanza. Milena, se ci siamo ancora lunedì prossimo, di cosa parliamo. Cioè, cosa vuol dire se ci siamo ancora? No, scherzo. Magari vengono anche in tre giorni e viene accentrato nelle mani della struttura commissariale. Ok, ok. Bene. Se ci saremo ancora ci rivedremo con grande piacere. Grazie, grazie Milena. Stiamo assolutamente scherzando. Dopo di noi, Lili Gruber ospita a 8 e mezzo, Lina Palmerini, Evelina Cristi Len, Andrea Scanzi e Antonella Viola. Ci fermiamo. Allora, vi dico solo brevemente che è ancora in corso la riunione dei rappresentanti della maggioranza sul programma in vista di un eventuale prossimo governo. I lavori dovrebbero proseguire fino alle 21 e riprendere domani mattina alle 9. Vi ricordo ancora che ci vediamo, se volete, dalle 17 di domani per la non-stop per raccontare l'esito di questa nuova fase della crisi di governo. Infine, le borse. Come stiamo per vedere, Milano ha chiuso con un più 1,17%. Sulla stessa linea, il guadagno del Dow Jones in questo momento a Wall Street più 1,11%, con il Nasdaq però che ottiene un più 2,56%. È tutto. Gruber, ci vediamo domani sera. Buonasera o alle 5, se volete.